Va ora in onda Radio Parco, un programma autogestito dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Conduce la trasmissione Siro Corriga. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Arcipelago. Siamo qua per un'altra puntata di Radio Parco. Oggi è una puntata importante perché parliamo di piano per il parco. E' un anno. Lo ringraziamo per essere venuto qua per cercare di spiegare un po' a che punto siamo e soprattutto cosa è successo settimana scorsa. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Insomma, è particolarmente gradita questa occasione perché dopo vent'anni di parco finalmente arriviamo ad un momento in qualche modo fondamentale per la vita del parco. Doveva essere raggiunto molto tempo fa, però è anche vero che tutte le procedure e le pratiche necessarie per l'avvio, adesso spiegheremo poi nel dettaglio, della redazione del piano sono partite solo quattro anni fa. Dico solo perché effettivamente quando parliamo di piano del parco parliamo di uno strumento, di una importanza strategica fondamentale. Presidente, proviamo a spiegare cos'è un piano per il parco. Allora, il piano per il parco, per come è stato codificato dalla 394, che è la legge che istituisce i parchi nazionali in Italia, è lo strumento di pianificazione attraverso il quale si stabilisce che cosa si può e non si può fare in un territorio, ma va al di là di una, diciamo, redazione di tipo regolamentare, cioè non è solo il regolamento del parco, ma stabilisce le zone che possono essere avviate ad una tutela integrale, quelle che possono essere invece in qualche modo fruite secondo certe discipline e quelle che possono essere invece avviate allo sviluppo, come dire, in qualche modo sempre compatibile con l'ambiente, ma in qualche modo economico e turistico. Questo è fondamentalmente il ruolo del piano del parco e perciò deve contemperare, questa poi è la difficoltà che ci ha portato a sostanzialmente a dover attendere alcuni anni, a dover contemperare in qualche modo esigenze che partono da punti di vista spesso diametralmente opposti. È un documento però sicuramente fondamentale per un'area protetta, il documento appunto di, come dire, di programmazione della gestione del territorio. Quest'anno ricorre il ventennale del parco, quest'anno viene approvato il piano del parco. Proviamo a fare un escorso storico della vicenda piano. Sì, innanzitutto c'è da dire che i piani dei parchi purtroppo per la stessa struttura e rigidità della norma sono in qualche modo quelli vigenti in tutto il territorio nazionale che è poco più che il 50-60% dei parchi istituiti. Ciò ha significato che le procedure di approvazione sono tutt'altro che semplici e su questo punto ritorneremo. Per quanto riguarda l'arcipelago di La Maddalena bisogna ricordare fondamentalmente le tappe che ci hanno portato a questo, diciamo, all'approvazione. Partendo dal fatto che il parco nazionale è vero che è stato istituito nel 94 con la legge, ma l'ente di gestione è stato istituito con legge, con DPR nel 96, perciò due anni dopo, e che in realtà il comitato di gestione provvisorio si è insediato nel 98, per cui già si vede che dall'istituzione alla gestione sono passati già quattro anni. I primi cinque anni di gestione provvisoria guidati dal professor Camarda hanno incominciato a ragionare sulla regolamentazione provvisoria che era in qualche modo frutto dell'applicazione del DPR istitutivo. Poi arriva l'era Qualbu con l'emanazione di regolamenti provvisori che però vengono in qualche modo bocciati regolarmente dal Ministero dell'Ambiente perché non coerenti con la normativa della legge quadro dei parchi nazionali delle aree marine protette. C'è da dire che il nostro parco ha una situazione anche particolare perché è l'unico parco nazionale fatto eccezione per l'arcipelago toscano che però ha la stessa problematica su aree più ristrette rispetto a quello del parco nazionale e dicevo è l'unico parco nazionale che ha estensione dei confini che vanno al di là del perimetro terrestre ma arrivano a mare. Questa non è una questione di poco conto perché come è successo anche da quando mi sono insediato il primo nocciolo della questione è stato capire se la parte a mare poteva essere gestita. So che qua ci addentriamo nei tecnicismi ma è giusto che la gente possa capire. Cerchiamo di far capire magari qualche problema che possiamo aver avuto risultato. Allora i primi anni di gestione della mia gestione, il primo quinquennio, nei primi due anni abbiamo avviato una procedura, un'interlocuzione col Ministero per capire se la parte a mare dell'arcipelago di La Maddalena del parco potesse essere gestito con le norme che regolano il funzionamento delle aree marine protette applicando un principio sostanzialmente di equiparazione. Questo perché? Perché la gestione delle aree marine protette da questo punto di vista è molto più semplice, nel senso che ogni anno può essere emanato un disciplinare di gestione che deve essere concordato semplicemente fra ente parco e autorità marittima, sentite le amministrazioni diciamo locali. Il procedimento perciò è molto snello e ti permette di poter cambiare, se vogliamo dire, idea rispetto ad alcuni elementi di gestione a mare in termini molto più veloci e diretti. Mentre per quanto riguarda invece la gestione tradizionale di un parco nazionale, il piano del parco come adesso rappresenteremo è molto più complicata perché implica dei passaggi che vedono l'approvazione da parte della regione e degli enti locali che allungano molto i tempi e perciò qualsiasi tipo di trasformazione modifica deve passare sempre per questo tipo di procedura. Ecco, la settimana scorsa, esattamente il 5 marzo, con deliberazione del presidente dell'ente parco Giuseppe Bonanno è stata pubblicata la proposta del piano del parco. Proviamo a definire l'ultima fase di questo percorso amministrativo perché sostanzialmente non è stato ancora approvato il piano del parco. Allora, dicevo, dopo che abbiamo capito con l'ausilio dei tecnici del ministero che la procedura non poteva essere quella di equiparazione, di dividere praticamente il parco di fatto come se fosse un parco nazionale e un'area marina protetta perché l'area marina protetta non è mai stata istituita, allora si è avviata tutta la procedura relativa alla definizione del piano del parco, gestendo l'area a mare come se fosse aria terrestre sostanzialmente. Perciò sono state varate le linee di indirizzo per la preredazione del piano che non erano mai state varate da nessuna amministrazione precedentemente a quella mia ed è stato dato l'incarico per la redazione del piano del parco. Questo strumento adesso segue le procedure previste dalla legge che sono molto, se vogliamo, macchinose, ma da un certo punto di vista sono anche garanzia perché tutti possano partecipare al processo di lettura e modifica dello strumento prima ancora che questo diventi attuativo. Ricordiamo che anche in fase di redazione comunque c'erano state una serie di riscontri nella comunità locale per far emergere appunto dalla comunità locale quali fossero le esigenze comunque espresse. Sì, negli anni ci sono stati degli incontri pubblici promossi dal gruppo che ha lavorato sul piano del parco con il recepimento delle istanze da parte del territorio, ma non è finita qua perché allo stato attuale con il varo della bozza, e non è un caso che si chiama bozza di piano. Il pallino passa adesso alla comunità del parco e alla regione. Alla comunità del parco, che ricordo per l'arcipelago di La Maddalena è costituito dai tre enti presenti sul territorio che sono il comune di La Maddalena in primis, la provincia di Olbiatempio, fino a quando ci sarà, è la regione Sardegna. È alla regione perché è l'organo deputato all'adozione del piano in forma ultima. Noi abbiamo adottato la proposta di piano che, come alcuni mi hanno fatto notare, non è visibile, ma non perché si voglia nascondere alcunché. Perché la procedura prevede che sia la regione Sardegna adottando la proposta a pubblicarla perché tutti i cittadini possano prenderne visione e fare le osservazioni come singoli, come associazioni, come associazioni di categoria e queste osservazioni vengono inoltrate al lente parco. Questa fase di osservazione è aperta per 45 giorni. Sì, una serie di statistiche molto precise e molto vincolanti. Sì, allora, purtroppo è per fortuna perché poi, voglio dire, questi sono meccanismi che garantiscono sostanzialmente che il piano sia un processo in qualche modo partecipato. Dall'invio alla regione, la regione adesso avrà 90 giorni per adottare la proposta di piano. Una volta che è adottata la proposta di piano, passano 45 giorni entro i quali tutti i cittadini possono fare le osservazioni. Dopodiché le osservazioni ritornano all'ente parco che le visiona e le recepisce se coerenti con la normativa e con le indicazioni generali del piano e se dovesse discostarsi da un'osservazione deve motivarla. Perciò, a garanzia del fatto che un procedimento non è, le osservazioni non sono una formalità, ma sono un reale un reale contributo da parte dei cittadini. Ah, perciò ci sono, passano altri 40 giorni in cui l'ente deve vagliare, adottare, integrare il piano. Il piano a quel punto, dopo il quarantesimo giorno, ritorna alla regione Sardegna che lo adotta, lo approva in via definitiva. Da quel momento in poi il piano sostituisce tutti gli altri documenti di pianificazione presenti sul territorio. Secondo me c'è necessità di una specificazione rispetto allo strumento piano parco e rispetto a tutti gli altri strumenti di programmazione e di gestione del territorio. Qual è il livello del piano? Nella gerarchia in qualche modo? Il piano del parco è il livello massimo di pianificazione, sostituisce tutti gli altri piani, ad eccezione fatta del piano paesaggistico regionale, che ha rango superiore, e del PAI, cioè del piano di assetto idrogeologico. Tutti gli altri piani settoriali, i PUC, che però vorrei specificare per quanto riguarda il centro storico e l'area scontornata dall'Esternal SIC, come parco abbiamo deciso di in qualche modo derogare a questa gerarchia attribuendo piena in qualche modo valenza al PUC del comune di La Maddalena, ovviamente coerentemente alle previsioni del PPR, cioè del piano paesaggistico regionale. Questo perché per quanto riguarda il tessuto urbano e semiurbano, la periferia, l'area dell'arsenale per intenderci, come poi anche a mare abbiamo usato lo stesso in qualche modo principio, favorire lo sviluppo in qualche modo economico, le previsioni economico e turistiche che sono previste dal piano urbanistico comunale. Proviamo a dare qualche indicazione anche in termini generali delle linee che hanno guidato la redazione del nostro piano del parco. Noi crediamo molto, anche rispetto alla tipicità di questo territorio, che fondamentalmente le isole minori debbano costituiscono il nostro tesoretto, tesoro che dobbiamo valorizzare in termini di risorse biologiche e biodiversità e in termini di fruizione, per cui abbiamo stabilito delle procedure di fruizione che elevino questo territorio, soprattutto le isole minori, ha una fruizione più attenta, più oculata e soprattutto più incentrata sulla destagionalizzazione. Insieme a questo abbiamo anche avviato specifiche misure per incentivare il recupero delle ex aziende agricole presenti nell'arcipelago di La Maddalena, che non sono poche e alcuni di questi hanno un valore storico importante e che potrebbero costituire una rete di attività che effettivamente possono destagionalizzare. In qualche modo il piano del parco si rileva non solo ed esclusivamente come uno strumento vincolante sul territorio, ma in qualche modo uno strumento per valorizzare le caratteristiche è sicuramente questo, soprattutto questo. C'è la pianificazione sostanzialmente delle attività che, partendo dal presupposto che appunto le risorse ambientali per questo territorio rappresentano effettivamente la ricchezza, in qualche modo la devono valorizzare senza però depauperarle. Per cui, con una zonizzazione che è semplice, perché abbiamo evitato in qualche modo di sottoclassificare eccessivamente le aree, come in una prima impostazione del piano, abbiamo dato sostanzialmente la suddivisione del territorio classica in zone A, B, C e D, sia a terra che a mare. Partendo dal grado di massima tutela, che sono le zone A, arrivando fino alle zone con minor tutela, ma incentrate in qualche modo alla valorizzazione economico-sociale, che sono le zone D. E questo l'abbiamo fatto appunto, dicevo, sia a terra che a mare. Tant'è che nelle previsioni di piano abbiamo previsto anche l'individuazione di un'area di a mare, che corrisponde al specchio acqueo prospicente, il centro storico di La Maddalena, che abbraccia tutta l'area dell'ex arsenale e si spinge fin davanti all'isola di Santo Stefano, per intenderci dove c'erano gli americani, perché in quell'area devono essere in qualche modo incentivate sia attività di bonifica che attività di valorizzazione, come possono essere quelle del waterfront, appunto, ma anche la valutazione della possibilità di accoglimento di navi da crociera. Questo proprio perché siamo convinti che un meccanismo di fruizione controllato e coordinato possa permettere anche, come dire, la fruizione da parte del territorio di questi giganti che fanno paura giustamente se non controllati, ma che possono essere una risorsa per il territorio se condotti e coordinati e indirizzati nei circuiti turistici dell'arcipelago. Abbiamo identificato poi la rete dei sentieri come elemento qualificante per il territorio con un vero e proprio catastro che verrà aggiornato dall'ente annualmente e che costituisce elemento di fruizione che già adesso ha un impatto importantissimo per un turismo prettamente destagionalizzato, ma che può essere in qualche modo occasione di implementazione. Abbiamo identificato la Maddalena come porta del parco e perciò tutte le attività devono iniziare e finire partendo dal porto di la Maddalena e abbiamo identificato la necessità e l'opportunità che per esempio la fruizione fatta con le barche da traffico appunto partano dal porto di la Maddalena ma che siano soprattutto distinte in due turni, uno mattino e uno pomeridiano con sosta obbligatoria nelle ore centrali, l'ora di pranzo per intenderci, nel centro dell'isola di la Maddalena. Questo perché ha incentivazione sostanzialmente del tessuto economico sociale interno che del parco deve vivere e che può vivere sfruttando in termini intelligenti le risorse che in qualche modo la natura ci ha dato luogo di poter godere. La natura appunto. Abbiamo visto in qualche modo le valenze socio-economiche espresse dal piano. E in termini di tutela? In termini di tutela abbiamo distinto sia a terra che a mare la presenza di zone TA e MA, questo con la distinzione appunto terra e mare, e poi un'altra categoria di zone di massima tutela che sono le A2 sia a terra che a mare, che sono zone a massima tutela ma entro le quali si può entrare attraverso percorsi di visite guidate e perciò dando la possibilità... Quindi in qualche modo non c'è una rinuncia al patrimonio ambientale, alla fluibilità del patrimonio ambientale? No, 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 anzi c'è un'implementazione, una valorizzazione anche in termini occupazionali perché se vogliamo in questi territori ci si potrà entrare soltanto scortati da personale che viene autorizzato e diciamo formato appositamente dall'ente parco proprio per fare le visite all'interno di questi territori. Abbiamo previsto come per esempio TA, la stessa isola di Budelli che è al centro delle vicissitudini in qualche modo adesso... A che punto siamo? Lo possiamo chiedere? Adesso facciamo un appunto. Ma l'idea è quella che appunto a Budelli che è un... se vogliamo la rappresentazione di quanto la natura possa essere effettivamente eccezionale ma è anche un territorio così delicato che in questo periodo è particolarmente oggetto di interesse da un punto di vista scientifico proprio per la presenza di una grossa infezione derivante dallo sviluppo di un fungo che sta attaccando i ginepri dell'isola e perciò proprio per questo motivo bisogna fare in modo che l'accesso venga controllato, contingentato e soprattutto accompagnato perché la gente possa entrare in quell'isola, goderne di quella bellezza ma possa capire anche quali equilibri e che tipo di delicatezza spesso un ambiente così che sembra immutato o immutevole nel tempo in realtà possa essere modificato. Anche da azioni involontarie. Per esempio molti mi chiedono perché... cioè qual è in realtà l'impatto di un patogeno di questo tipo su un ecosistema purtroppo bisogna rappresentare che siamo in fase sperimentale per esempio abbiamo avviato delle attività sperimentali con l'uso di sostanze proprio per bloccare lo sviluppo del patogeno abbiamo iniziato la scorsa settimana con l'università di Cagliari proprio perché bisogna sperimentare e soprattutto il veicolo... uno fra i veicoli più importanti di diffusione purtroppo sono anche gli indumenti e le scarpe di quanti frequentano il territorio e si portano via appresso le spore trasportandole anche in altre parti del territorio. Perciò siccome questo fungo determina la morte sostanzialmente di Ginepri, Corbezzoli e anche Lecci ci possiamo immaginare quale può essere l'impatto di questo tipo di fungo sull'ecosistema dell'arcipelago che è così delicato. Per cui dovranno essere predisposte tutte delle azioni che possano contemperare l'esigenza di fruizione con l'esigenza di tutela del territorio e il piano del parco in questo è molto puntuale e preciso ma soprattutto abbiamo in qualche modo deciso di adottare degli strumenti attuativi, flessibili derogando alla rigidità del piano attraverso la predisposizione di piani attuativi che sono il piano di fruizione sostenibile, il piano dello sviluppo delle energie alternative il piano di disciplinari per la pesca e i disciplinari per la fruizione ecologica e ecosostenibile delle aree attrezzate del parco. Insieme di regole e di disciplinari che non devono chiaramente spaventare ma che devono essere eletti piuttosto in termini propositivi. Anche perché appunto essendo dei piani attuativi questi derogano alla rigidità del piano per cui essendo previsti nel piano possono essere modificati con procedure molto più veloci molto più snelle rispetto a quelle dell'impalcatura generale del piano e questo darà la possibilità per chi gestisce il parco e soprattutto rispetto alle risultanze che il territorio darà nell'applicazione di queste regole anche di capire laddove intervenire per modificare alcune situazioni. Il piano è modificabile Sì, il piano è modificabile ovvio l'impalcatura, ora al piano si dà un tempo diciamo di vita medio di dieci anni vero è che la procedura abbiamo visto è molto lenta e complicata ma l'adozione dei piani attuativi ci permette di poter modificare entro quella diciamo cornice le esigenze come per esempio l'istituzione dei punti di osservazione ecologica che sono uno strumento previsto nel piano ma che possono essere individuati in alcune aree dove si manifesta un'esigenza particolare per esempio siti di nidificazione oppure aree di ripopolamento a mare oppure nuove colonie della flora che si manifestano in alcuni punti dell'arcipelago questo ci permette di poter agire puntualmente senza doverli individuare in termini preventivi nel piano e perciò in quel caso irrigidire lo strumento che poi non può essere modificato mentre l'istituzione di questi punti può durare un anno, due anni oppure una stagione e perciò poi non avere più lo stesso effetto di preclusione alla fruizione che invece l'indicazione nel piano stesso avrebbe per dieci anni cioè questo è il meccanismo che abbiamo deciso di utilizzare proprio perché siamo convinti che la pianificazione così anche come è stata concepita nella 394 sia una concezione superata della gestione dell'ambiente ma che piuttosto si debba utilizzare questa è un'altra novità che abbiamo introdotto nel piano ufficializzando una procedura che comunque già dall'anno scorso stiamo adottando che è quella di un piano di utilizzo e monitoraggio ambientale costante attraverso che chiamiamo come dire anche simpaticamente Puma che è il piano attraverso il quale appunto il parco fa una scansione completa del territorio e determina effettivamente dove intervenire puntualmente e dove c'è la necessità senza adottare più strumenti come dire che si possano adottare generalizzando di carattere generale senza magari valutare le specifiche esigenze del momento e del territorio questo ci dà la possibilità di essere molto più flessibili e soprattutto di rispondere più adeguatamente alle esigenze dell'ambiente senza precludere però la fruizione del territorio in termini come dire generali che poi determinano sempre problematiche sia per il controllo che poi per l'attuazione vera e propria Presidente Bonanno un'ultima domanda per chiudere credo chiaramente ci sia soddisfazione rispetto alla pubblicazione di questo documento chiaramente si aprirà una discussione come è normale che avvenga cosa si aspetta? ma io mi aspetto più che altro una posizione propositiva nei confronti della popolazione qualche giorno fa ho avuto modo di dire perché mi rimproveravano sostanzialmente il poco coinvolgimento degli enti locali diciamo accuse pretestuose che non sono confermate né possono essere confermate se uno va a vedere le note ma l'avvio della procedura prevista dalla norma dà finalmente la parola alla gente che forse in maniera un po' più dettagliata e puntuale senza fare lotte di campanile oppure di come dire tutela di posizioni precostituite può dare un contributo fattivo al miglioramento dello strumento e non alla demolizione to court semplicemente per contrapposizione nei confronti del parco il piano è avviato lo si può soltanto migliorare e questo mi sembra un gran bel messaggio da dare alla popolazione che può effettivamente dare il proprio contributo perché questo strumento possa diventare proprio suo e non è un dovere previsto dalla norma ma voglio dire è un dovere morale che il parco assume in termini proprio di raccolta di una sfida che è quella di ascoltare il territorio e che questo passaggio venga attraverso le osservazioni che chiunque può fare mi sembra il modo migliore per poter lavorare a prescindere dei come dire interlocuzioni dentro le stanze che si possono fare con l'assessore piuttosto che un altro rappresentante della pubblica amministrazione che per carità ci deve essere c'è stato ma che ora può essere diciamo condotto in forma libera e scevra da qualsiasi condizionamento come dire di appartenenza a quello o a quell'altro schieramento o linea ideologica per cui sono convinto che si apre una fase interessante e portatrice di grandi novità chi potrà chi avrà diciamo la possibilità la volontà di leggersi le innumerevoli pagine di questi documenti sicuramente rileverà magari delle cose che possono non essere capite oppure possono essere come dire in qualche modo osteggiate ma troverà tanti altri elementi che vanno nel segno della valorizzazione e della tutela di questo territorio perché il parco ha questo ruolo e perché soprattutto il parco lavora sia per l'ambiente che per le persone che vivono giornalmente e quotidianamente questo territorio e se si avrà la capacità di leggere in questi termini il piano la conclusione dell'iter delle osservazioni non potrà che migliorarlo e renderlo veramente uno strumento di tutti e non di pochi io sono convinto che questo potrà accadere spero insomma che accada l'ente non si è mai nascosto e non ha mai come dire perso un'occasione per potersi confrontare con la gente ovvio che il nostro ruolo è soprattutto quello della tutela ma chi leggerà questo piano capirà che in realtà l'impostazione generale è quella di vedere l'arcipelago come risorsa risorsa che implica la conservazione del bene primario cioè come dicevo prima il nostro tesoretto e attraverso questa valorizzazione che è appunto l'unica ricchezza che abbiamo e quello che ci circonda sviluppare un tessuto economico che riesca anche a scardinare vecchi meccanismi come dire impostazioni ideologiche rispetto a come utilizzare e come sfruttare questo territorio se saremo in grado di vedere al di là dello status quo della tutela dei privilegi del singolo di una singola categoria si vedrà in generale un quadro entro il quale tutti quanti possiamo contribuire e soprattutto godere della fruizione di questo territorio è ovvio che dobbiamo chiusa questa fase anzi da subito da subito da adesso interloquire con la regione perché si risolva un grosso problema che però esula dalle possibilità dello strumento del piano che sono quelli dei collegamenti da e per la Maddalena e dal continente verso la Sardegna perché noi possiamo fare tutta la rete dei sentieri che vogliamo fare tutti gli alberghi possibili e immaginabili posto il fatto che questo possa risolvere realmente i problemi economici dell'isola ma se continuerà ad essere più vantaggioso per me a parità di offerta ed è per questo che noi dobbiamo valorizzare le figure come Garibaldi agricoltore la rete dell'agricoltura storica la visione il monitoraggio la visione dell'osservazione dei cetacei degli uccelli perché se a parità di offerta è più vantaggioso per me andare a Sharmeshaik io andrò a Sharmeshaik e non verrò alla Maddalena perciò noi dobbiamo fare un ragionamento che esula le possibilità del parco ma che col parco si possono fare insieme a Regione insieme alle compagnie di navigazione insieme a tutti quegli attori che possono contribuire realmente perché il territorio diventi competitivo e a questo aggiungendo appunto quelle peculiarità che possono metterlo su un altro piano a livello nazionale internazionale perché offriamo qualcosa di diverso noi su questi ambiti dobbiamo agire il piano si è occupato in qualche modo di esplicitare questa diversità rispetto ai territori circostanti ora dobbiamo fare l'altro passo che è quello di renderlo competitivo in termini proprio di offerta turistica a livello nazionale e internazionale chiudiamo così questa puntata di Radio Parco ringraziando il presidente Giuseppe Bonanno per essere stato qui a raccontarci in qualche modo quest'ultima fase di lavoro dell'ente Parco ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito Radio Arcipelago che ci ospita buona giornata a tutti dagli studi di Radio Arcipelago vi abbiamo trasmesso Radio Parco un programma autogestito dall'ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ha condotto la trasmissione Siro Corriga ha partecipato alla trasmissione il presidente Giuseppe Bonanno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti